Sono iniziati gli interrogatori di garanzia per tre delle sei persone finite agli arresti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze sulla presenza dell'Andrangheta in Toscana. È slittato al 3 maggio il faccia a faccia con l'imprenditore Francesco Lerose, rinchiuso nel carcere di Arezzo in isolamento a causa dei controlli anti-Covid. Sono rimasti in silenzio di fronte alla GIP invece il figlio e la moglie. Battaglia giudiziaria lanciata anche dal consigliere regionale del PD Andrea Pieroni, anche lui indagato, che chiede il dissequestro del PC e del cellulare. Accanto al filone giudiziario la regione ha dato il via ai controlli sui terreni dove sarebbe finito il CHEU, materiale di risulta delle concerie altamente inquinante. Per avere informazione è stato messo a punto un numero verde 800 800 400 a cui rivolgersi da giovedì con richieste specifiche per chi ha pozzi lungo la strada regionale 429 dell'Empolese sotto la quale si troverebbero almeno 8.000 tonnellate della sostanza inquinante. Abbiamo concordato con il direttore di Arpat proprio nella giornata di ieri dopo una serie di segnalazioni di cittadini ingiustamente preoccupati, cittadini che vivono o hanno orti e quindi utilizzano i pozzi nei dintorni della strada nel cui rilevato è stato nel tratto di strada in cui questo CHEU è stato utilizzato e offriremo analisi gratuite dei pozzi.